Residenti e proprietari di seconde case hanno potuto assistere ad una tre giorni durante la quale il centrale Corso Italia Cortina d'Ampezzo era stato trasformato in un set cinematografico. Da venerdì 26 marzo a domenica 28 infatti è stato girato lo spot di Motor Days con protagonista il campione di sci Christian Ghedina. Si sono viste in centro scorrazzare auto della polizia americana e lo stesso Christian Ghedina sugli sci in Corso Italia trainato da un quad compiere delle evoluzioni e dei salti strabilianti. Il Motor Days si terrà nel 2022 ed avrà come scopo educare alla sicurezza stradale. Nel progetto collabora anche Vittorio Brumotti e un nutrito jet set. In esclusiva per Telecittà siamo andati sul set ed abbiamo intervistato Christian Ghedina. Allora Christian Ghedina, il Motor Days che cos'è? Il Motor Days è un evento nella quale si farà un po' di show, un po' di spettacolo però sarà anche istruttorio per tutti i ragazzini perché ci sarà la polizia verrà simulato anche un incidente dove si spiega l'importanza di non usare il telefonino quando si guida fondamentale. E poi dopo tutti gli eventi di show, spettacolo con diversi personaggi c'è Alvaro D'Alfarra, c'è Ringo DJ, c'è Brumotti e saremo a Fiammis anche qui in piazza Cortina dove si faranno tutte esibizioni con le macchine di drifting, le moto faranno spettacoli, salti mortali e cose così accompagnate dalla musica di Ringo DJ e Vittorio con la bicicletta qua in piazza farà le sue esibizioni che è molto bravo e quindi sarà uno show di divertimento però anche istruttivo per i giovani. E quando lo farete? Lo faremo i giorni che saranno il 14, 15 e 16 gennaio 2022 quindi mi raccomando non mancate, vi aspettiamo tutti e ci sarà a divertirsi. Grazie.